Per il sindaco di Bolzano, Luigi Spagnoli, non si tratta di una buona notizia alla vigilia della lunga campagna elettorale che porterà la chiamata alle urne di maggio. Il primo cittadino del capoluogo è stato infatti raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini firmato dai sostituti procuratori Igor Secco e Giancarlo Bramante. L'ipotesi di accusa e di abuso in atti d'ufficio per aver autorizzato l'ampliamento del centro commerciale Tuenti di Via Galilei, un raddoppio previsto dalla provincia, la quale, modificando la legge urbanistica, aveva disposto che proprio accanto allo shopping center esistente ne dovesse sorgere uno nuovo, l'unico in Alto Adige. Contro l'ipotesi vennero redatti alcuni pareri tecnici, uno dell'Enac che riteneva che la progettata struttura fosse in sostanza poco compatibile con il traffico aereo del vicino Scalo di San Giacomo. Anche la Commissione Edilizia Comunale e l'Ufficio Legale del Comune ebbero a ridire. Ciò nonostante Spagnoli firmò il 13 marzo del 2014 la licenza e, secondo i magistrati inquirenti, la procedura non fu del tutto corretta. Il sindaco per parte sua si difende affermando di aver agito seguendo alla lettera la legge. Altri due avvisi di garanzia sono stati recapitati a Giovanni Podini, proprietario del Tuenti, e all'ingegnere Stefano Mattei. L'ipotesi a loro carico è di aver commesso un abuso edilizio. In sostanza avrebbero fatto costruire delle travi portanti interrate capaci di reggere il peso anche del Tuenti bis e questo prima che fosse rilasciata la relativa licenza edilizia. Per gli avvocati di Podini e Mattei si tratta al limite di un'irregolarità sanabile dal punto di vista amministrativo senza conseguenze penali. I tre indagati ora hanno 20 giorni per depositare memorie o atti utili alle indagini. Poi la procura potrebbe formulare la richiesta di rinvio a giudizio. La decisione sul loro eventuale rinvio a giudizio o proscioglimento non arriverà comunque prima delle elezioni comunali.